22-23 settembre su Segana, ci vediamo per parlare di intelligenza artificiale, soprattutto un evento rivolto a tutti i ragazzi che vogliono capire il futuro che sta arrivando, anzi in realtà, visto il successo clamoroso di ChatGPT, il futuro è già qui, quindi come utilizzare queste intelligenze artificiali generative. Faremo prima una sorta di, diciamo, incontro introduttivo e poi invece faremo un workshop dove metteremo in pratica alcune delle cose che abbiamo imparato durante il venerdì e soprattutto ci saranno dei progetti magari a gruppi specializzati proprio di utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Ci vediamo su Segana, io sono Gianluigi Bonanomi e mi occupo di comunicazione digitale da tanti anni. Ciao!